Cosa ne pensa Maurizio Cevinini della Delirium Tax? Già il termine è un programma, nel senso che io ho seguito, pur essendo nell'ente preposto al controllo di queste tasse, ho seguito attraverso molti amici, persone che hanno subito questi imprevisti messaggi di riscossione e pagamenti e oggettivamente il tema dell'informazione è un elemento fondamentale, la retroattività lascia perplessi, so che ci sono delle iniziative in corso, credo che l'amministrazione nel rispetto delle regole che è fondamentale comunque si debba adoperare per mediare con i cittadini, cioè i cittadini non sono dei nemici e degli avversari, sono l'elemento fondante dell'amministrazione, quindi spero che ci siano le condizioni per risolvere i casi più accoltanti. Grazie